Signor Sharingham, lei è Jane, signore. Salve. Sei a servizio dei Niven. Ti vedrò molto spesso, sicuro. Questo pesce è davvero delizioso. Pescato con le tue mani, giusto? Non lo prenderebbe neanche se gli nuotasse in braccio. Noi andremo a Enliga a pranzo. E tu? Che cosa farai? Vorrei poter uscire con te. Champagne e ostriche. E tutti i libri che vuoi. Un giorno, forse. È sempre in ritardo. Sta studiando, vero? Devo sposarmi e diventare un avvocato. È quello che si aspettano da te. Avrei piacere di proporre un brindisi alla sposa. Gli altri crescevano in fretta. Io invece volevo solo che giocassimo ancora. Jane, posso dirti tutti i miei segreti? Non hai assolutamente nulla da perdere. È una vera fortuna. Non hai assolutamente nulla da perdere. Grazie per la visione